Per quanto riguarda l'11 marzo noi faremo in settimana una serie di valutazioni su questa iniziativa che avrebbe annunciato Matteo Salvini. Ritornando alle sue affermazioni, sono affermazioni di evidente impronta nazifascista. Parlare di pulizia di massa e di andare a prendere le persone strada per strada io credo che probabilmente evoca anche comportamenti di natura criminale oltre che razzista e inaccettabili. Chiaramente Napoli, io lo ricordo a tutti, è la capitale delle quattro giornate. Prima città d'Europa e con una rivolta di popolo prese a calci nel sedere l'esercito più potente nel mondo. Quindi metteremo in campo le iniziative adeguate di fronte alle provocazioni di Salvini. Nelle ultime settimane in Campania, ma in generale nel Mezzogiorno, ci sono stati diversi problemi con i migranti. C'è un rischio, secondo lei, di tenuta democratica sui temi della solidarietà e dell'accoglienza? Io penso nel Mezzogiorno no. Al di là dei singoli fatti isolati, a Napoli sicuramente no. Ma attenzione però, perché in realtà Salvini non è che ce l'ha solo con gli immigrati. Salvini è quello che iniziò a cantare il coro, scappate, scappate, senti che puzza, arrivano i napoletani. Cioè Salvini è profondamente razzista, è profondamente antimeridionale. Soltanto che adesso gli conviene di più far vedere che lui è italiano e quindi ce l'ha con chi è più a sud di noi. Questa mi sembra un po' l'impronta, se oggi penso a Trump, penso a cento anni fa, quando i meridionali, quindi anche i napoletani, vennero accolti da un editto di Washington come negroidi.